Malgrado l'estate si avvì verso la sua conclusione, continuano i controlli delle forze dell'ordine nei confronti di strutture che in un modo o nell'altro gravitano intorno al mondo del turismo. Dopo il controllo a Grotticelle, dove la squadra mobile e il posto fisso di Tropea della Questura in sinergia operativa con la Capitanaria di Porto, la Guardia Costiera e l'Asp di Vibo Valencia avevano riscontrato in una struttura ricettiva con annesso stabilimento o balneare gravi violazioni di tipo igienico. Ora l'attenzione si è focalizzata su una struttura ricettiva a Capo Vaticano. Anche qui sono emerse criticità di tipo igienico-sanitario nella cura degli ambienti in particolare nella gestione della postazione di primo soccorso posizionata sulla spiaggia la quale presentava non soltanto un'igiene carente ma anche prodotti medicinali come le bombole di ossigeno scadute da anni, in tal modo esponendo a rischio i bagnanti presenti nello stabilimento. Oltre a queste è stata scoperta anche l'occupazione abusiva di 150 metri di spiaggia pubblica oltre i 100 che già erano stati concessi alla struttura, violazione per la quale il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. In tutto al proprietario sono state elevate sanzioni per 1.000 euro più altre 660 a causa delle reiterate violazioni di ordinanza del sindaco di Riccati. Infine, alla luce delle svariate violazioni e le ordinanze emesse alla Capitanera di Porto, compreso l'ancoraggio di un gommone in zona riservata alla balneazione, venivano elevate ulteriori sanzioni per circa 1.500 euro.